Eccoci nella parte che ci piace di più, ovvero stare seduti finalmente dopo una giornata di fiera davvero stressante. Comunque, finita la fiera, abbiamo fatto come ultimo appuntamento Kingdom Come Deliverance. Abbiamo già visto più riprese i tre appuntamenti e lo rivediamo ancora a Gamescom 2017, però con una build totalmente nuova che ci porta un po' più avanti nella storia. Abbiamo visto la missione introduttiva e adesso siamo completamente dopo gli eventi della prima parte, quindi andremo a servizio del signor Serrajic e praticamente il nostro scopo sarà quello di scoprire il misfatto fatto a una stalla che è stata colpita probabilmente da un manipolo di soldati guidati a Cavaliere Nero, lo stesso che ha raso a suolo il nostro villaggio. Per cui partiamo alla ricerca di indizi e saremo proprio condotti in questa specie di investigazione che ci vede proprio come protagonisti. Dobbiamo andare prima nella stalla, indagare un po' in giro e ciò ci dimostra in realtà qual è la reale natura ludica di Kingdom Come Deliverance, ovvero che c'è una soluzione alla fine dei problemi e una soluzione narrativa, ma nel compenso potremo prendere davvero infinite strade, infinite no, però comunque molteplici, per raggiungere quel risultato. Per cui magari andare da una parte piuttosto che con un'altra o seguire un indizio, piuttosto che magari ascoltare le parole di un popolano, faranno sì che si triggereranno degli eventi diversi e quindi poi dopo raggiungeremo, anche con Cassina all'interno differenti, comunque lo stesso risultato. Quindi una complessità che però va comunque ad uniformarsi alla fine. In questo modo secondo noi hanno cercato di non impelagarsi troppo in qualcosa di più grosso di loro, in una ramificazione che poi poteva diventare davvero deleteria. Quindi secondo noi comunque l'idea c'è, stiamo avendo un quadro un po' più chiaro di dove vogliono andare a parare col prodotto finito e comunque quello che si vede in realtà ci sta piacendo sempre di più per i dettagli, per la struttura dei combattimenti, insomma davvero stanno migliorando e si vede tangibilmente giorno dopo giorno. Da Gamescom 2017 e con Kingdom Come Deliverance vi invitiamo poi dopo a scoprire tutte le novità sempre sul sito di Spazio Games. Un saluto ragazzi, ciao! Grazie a tutti!